vi propongo un nuovo tutorial in collaborazione con hobby berline e più specificatamente l'elaborazione di queste nappine le nappine sono nate da un'idea che è sorta dopo la realizzazione della borsa ad uncinetto che senz'altro avrete seguito sul canale youtube di hobby berline cioè questa perché oltre ad essere una borsa diciamo da cerimonia mi piaceva che avesse anche una modalità più frivola e inserendo queste nappine nella parte centrale della mattonella rendevano la nostra borsa utilizzabile anche per altri scopi non soltanto per le cerimonie naturalmente all'occorrenza le nappine si tolgono e potete utilizzare la borsa anche senza